Il Zappe, Equip Sai e Villa Meravigliosa si affrontano per questa seconda semifinale della 29esima edizione dell'Inghe Callen, una partita che si presenta sulla carta molto equilibrata, lo sarà anche nei fatti, partenza subito a mille da parte della squadra di Zappe e Equip Sai con questo tiro di Meneghello dove Roche è stato bravo ad opporsi dopo la reazione da parte di Villa Meravigliosa con questo tiro di Marconi ben servito da Di Giorgio, non trova però alla porta il calciatore che ha giocato quest'anno nella Serie D nel calcio Sezze, poi la volta ancora della squadra del Maglia Bianca con questa sventola da parte di Valentino e poi prezioso che calcia in diagonale, il palo dunque di Valentino trema la porta ma non capitola il portiere Roche di Villa Meravigliosa, altra conclusione da parte di Zanutto con la risposta di Cacciotti e dopo molte schermaglie arriva questa azione sull'out di sinistra con questo tiro cross che beffa Cacciotti, non sembrava un tiro irresistibile ma Di Giorgio è riuscito però a indirizzare bene nello specchio della porta del portiere appunto di Zappe e Equip Sai e passa dunque in vantaggio la squadra di Villa Meravigliosa, poi c'è però la reazione, attenzione, il gol del pareggio da parte di Matozzo che ha ricevuto palla con i giusti tempi dal suo compagno di squadra Proia e dunque pareggiate immediatamente i conti, ritorna dunque in parità la sfida, una sfida molto equilibrata che sarà sul filo del rasoio praticamente dall'inizio alla fine, adesso ci prova nuovamente la squadra in maglia bianca, attenzione, riceve il pallone ancora Matozzo, se ne va Matozzo indisturbato e riesce con questa serpentina finalizzata poi da questa conclusione a portare in vantaggio nuovamente la sua squadra, anzi non nuovamente perché era sotto nel risultato di Zappe e Equip Sai, adesso invece la partita è completamente cambiata, un nuovo padrone ed è appunto il Zappe e Equip Sai che conduce le danze, adesso due reti a uno, sulle ali dell'entusiasmo comincia bene anche il secondo tempo la squadra in maglia bianca con questo tiro di prezioso e poi una conclusione che viene invece bene neutralizzata da Rocci, poi guardate che numero signori, da parte di Marconi che si accende, riesce però Cacciotti questa volta a intercettare la sua conclusione sul primo palo e adesso c'è ancora la formazione in maglia bianca che riparte velocissima con Stravato, se ne va Stravato, attenzione, incursione da parte di Stravato e poi il Sventola che termina direttamente sul palo, sembrava battuto in questo caso il portiere Rocci di Villa Meravigliosa che se l'è cavata però anche con l'aiuto del legno della porta, contropiede adesso da parte della squadra in maglia con le casacche, scusate, arancione di Villa Meravigliosa, azione che si sviluppa e poi arriva questo tiro ribattuto, un'altra conclusione e pallone che termina sul palo, incredibile anche in questa circostanza la formazione di Zappe e Equip Sai se la cava, adesso c'è Di Giorgio, il tempo sta per scadere, attenzione Di Giorgio, lascia sul posto il numero 7 Meneghello e poi scarica sul secondo palo il gol del pareggio pesantissimo, mancavano infatti due minuti al termine, festeggia giustamente Di Giorgio perché questo gol porta la sfida ai supplementari supplementari che sono piene di emozioni ma prima di passare a punte supplementari c'è stato questo fallo di Stravato che viene anche espulso dal campo, era fallo da ultimo uomo, ha strattonato vistosamente il suo avversario che era lanciato a rete e dunque la formazione di Ilzappe e Equip Sai ha giocato gli ultimi tre minuti in inferiorità numerica ma non ha pagato Dazio, è riuscita comunque a portare la sfida ai supplementari, poi c'è questa conclusione da parte di Proia, guardate che traversa, questa volta è andata di lusso al portiere di Villa Meravigliosa che sembrava battuto e poi c'è la reazione, attenzione da parte della squadra di Villa Meravigliosa, doppio tentativo di Di Drapano e poi gol, vantaggio dunque praticamente al terzo minuto del primo tempo supplementare, scusate del secondo tempo supplementare dunque a questo punto davvero è disperata la situazione per la squadra di Ilzappe e Equip Sai che comunque ci prova fino alla fine, arriva il gol invece del pareggio da parte di Valentino, incredibile dunque disattenzione da parte della squadra di Villa Meravigliosa, si va dunque a calci di rigore e para dunque Gacciotti, questo tiro a Di Giorgio era il quinto tiro dal dischetto, adesso c'è la possibilità invece per Matozzo che deve calciare il suo ultimo rigore e riesce a mettere dentro, dunque vince la formazione di Ilzappe e Equip Sai e va in finale dopo una sfida davvero molto equilibrata, molto bella, molto intensa ma alla fine Ilzappe e Equip Sai è riuscita ad averla meglio ai calci di rigore contro Villa Meravigliosa.